Ciao a tutti, sono Fabrizio Abadito, ho 18 anni e vivo all'Aquila. Circa 5 anni fa mi sono affassionato al mondo della musica e del DJing e la mia prima console era composta da 3 lettori gemini e una mixer della Beringer. Successivamente con le prime feste private e feste di compleanno mi sono comprato una cdj 800 o una cdj 1000, l'ultimo acquisto è stato ad agosto che mi sono comprato una dj m900 Lexus. Da settembre a fine dicembre ho suonato in un locale in centro all'Aquila e da fine dicembre suono il sabato o luna discoteca. Ho suonato anche a Cervia, a Roma, a Pescara e l'ultima data è stata il 15 febbraio che ho suonato a Milano Marittima dove dovrò tornarci il 31 di maggio. La musica che preferisco è l'Electro House, la House Progressive e da quest'estate mi sono appassionato anche alla Deep House. Sto imparando a produrre, infatti ho anche una tastiera a 49 tasti e ho la licenza della CI. Le qualità che mi contraddistinguono sono la fantasia e il fatto che cerco sempre delle canzoni che sfigurano corti. Partecipo a questo contest per confrontarmi con gli altri e metterli in gioco e anche perché penso che questo contest sia un'ottima possibilità per farmi conoscere e per esprimermi gli altri. Ho preparato un mix Electro House e spero a voi vi piaccia. Bocca al lupo a tutti! Grazie 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 a tutti!